Amici finalmente il vostro big generale qua davanti con tutti i suoi bellissimi oggetti diamantosi guardate qua che bomba ragazzi Quindi benvenuti e bentornati in questo nuovo video del buone carissimo DeMarc Full diamanti full di nederite ragazzi oggi il big generale è super carico perché voglio andare a catturare i nostri amici Alle i nuovi mob ma prima voglio salutare con l'hashtag minecraft it a quelli che hanno commentato lo scorso video Che sono GiacomoDragon e End Quindi mi raccomando se volete essere saluti anche voi scrivete qua sotto nei commenti quali dei tre mob nuovi della 1.18 preferiti ragazzi Allora a me piace tantissimo il copper iron golem però visto che l'ha già preso Marci e se non mi sbaglio la lei ancora nessuno l'ha preso Quindi ero super super curioso ragazzi ad andare nel land nel land scusatemi nel nether per poterlo catturare Allora come notate ragazzi non ho più l'effetto observed e da un po' di giorni non vedo più quei mostri in giro che mi inseguono che mi spiano Che mi osservano appunto e questa cosa qui va super 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 bene Allora io l'ho inventato stracomo di roba ma come notate ho del vetro con me Perché prima di andare nel nether ragazzi voglio porre fine al fatto che mostrillo dia fuoco a qualunque roba esistente sulla faccia della terra della big vanilla Perché mi avete detto Marco ti prego fai una protezione perché non è possibile che la big vanilla vada a fuoco ogni secondo della sua esistenza Va bene ragazzi per ora direi tappiamo mostrillo in questo modo che è un po' una roba un po' tumace Cioè non è che sia proprio una roba così tanto bella e carina però magari potete darmi voi qua sotto dei consigli magari un modo magari No 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 me ne vado no 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 fermi un attimo non ci ho pensato Cioè ragazzi la prossima morte di mostrillo potrebbe essere a causa mia del fatto che lui mi colpiva io avevo thorns Allora facciamo la roba vado a prendere altro vetro che doveva avere qua sotto Poteva veramente finire il mondo ragazzi oggi e quindi devo muovermi facendo questa roba e non farmi colpire soprattutto Quindi non devi colpirmi campioncino ok togliamo questo 1 2 1 2 3 via Uh meno male Oh mio dio quanta roba ha dato fuoco Ok ragazzi e per ora mostrillo l'abbiamo rinchiuso qua in questa gabbia incredibile di vetro Allora se vi va ragazzi nel prossimo episodio ovviamente dovete dirmelo voi qua sotto nei commenti che li leggerò tutti quanti Se volete che magari in questa zona io costruisca un qualcosa che la renda più carina a modi stile nether Secondo me ci potrebbe stare quasi come se lo rinchiudessimo all'interno di un vulcano Stile un pochino quello che ho nella pixel se avete presente di cosa sto parlando Ovviamente credo che tanti di voi lo sanno Però ragazzi ditemelo voi In realtà io volevo catturare anche un froglin che è uno di quei mob che sporano molto vicino alla casa di buddy Perché sporano solo nella palude Quindi pensavo di dover catturare un nuovo froglin Allora ragazzi vi giuro che se mi colpisce un'altra volta questo dannatissimo pipistrello che l'ho visto che era Eccolo qua ve l'ho detto con il vex Io ve lo giuro impazzisco per davvero eh Adesso noi andiamo direttamente nel nether ragazzi Perché il momento più importante di questo episodio della big vanilla sta arrivando Non io che vi sto per far venire la nausea Ma andiamo a prendere un bellissimo E' incredibilissimo Bellissimissimissimo A lei Allora noi ci mettiamo qua la nostra amica corda Prendiamo i nostri amici razzi Che ragazzi ma ci fate caso che Fermi un attimo eh Ragazzi ma ci fate caso cioè scusatemi un attimo Perché sono stato frecciato Ma cosa ci fa un Un Uglin là in alto Povero come ci è arrivato Da dove mi sta prendendo il gas No non attaccare la casa che sicuramente l'abbiamo solita marci Perché è tutta quanta fatta di legno azzurro Allora Si calmi Eh vabbè eh vabbè Allora lei vuole essere fatto fuori No allora detto questo io me ne posso andare Perché quel gas lì era un pochino buggato Comunque qualcuno mi spiega l'Uglin che è là in alto Poverino Perché ho in effetto Raga raga Che cacchio è sto robo No non so se avete visto Ragazzi ho delle bollicine nel nether Ma che diamine sto vedendo No allora c'è qualcosa che non va eh Perché qua stiamo veramente esagerando Dove diamine è andato Perché so C'ho delle bollicine ragazzi Cioè non sono ubriaco È così per davvero Non sono veramente confuso Dove Ma l'avete visto anche voi Che c'era un Wither skeleton Con un cannocchiale in mano Un arco sopra un ghast Allora io devo trovare Eccolo Un attimo Colpiamolo Oh L'ho sciottato Sciottiamo anche il ghast Uh C'era un altro Uh C'era un altro anche lì Eh ma lui muorirà per danno da caduta Sicuramente Vediamo se è morto È morto per danno da caduta Buongiorno Allora loro sono tecnicamente miei amici Perché se non mi sbaglio Tranne l'Uglin che vuole morire Bow Allora Con un colpo di ascio Secondo me lo facciamo fuori Ah 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 Per davvero Che Io non ho capito cosa ho appena visto ragazzi Comunque Cioè c'era un Wither skeleton su Un ghast Va bene Allora in tutto ciò noi dobbiamo trovare Una zona Di Soul Sand Perché gli Allei Tecnicamente Sponano sulle zone di Soul Sand Ed è molto difficile trovare appunto Quelle zone che solitamente Si trovano qua Dove ci sono questi alberi azzurri Dove ci sono proprio delle pianure gigantesche Non vale che sponino direttamente qua Perché Così questa qui Tecnicamente è una zona troppo piccola Per far sponare I nostri amici Allei Quindi Allora vediamo se troviamo qualcosa Di un po' più utile Per quello che appunto Ne stiamo cercando Allora a quanto pare Qua non vedo niente Di tutto ciò di molto interessante Non vedo Deli Wither skeleton Direttamente Sopra a Un ghast E questa cosa qua Un pochino Mi salva la vita Perché prima mi è venuta l'ansia D'altro che Basta ghast Non li voglio più vedere Qua c'è qualcosa di utile No A quanto pare Neanche qua c'è qualcosa di utile Per Eccolo Oh No ragazzi Nel nether c'è qualcosa che non va C'è un ghast che è enchantato Ragazzi C'è il ghast è enchantato Ehm Ok Io Non Non so come esprimermi Facciamo finta Che tutto ciò non stia succedendo Va bene ragazzi Va bene anche per voi Secondo me Uh Eccola qua Questa zona qua Intendevo come pianura Di soul sand Quanto si fa Bello che azzurrognolo E tutto quanto qua ragazzi È soul sandoso Che poi noi abbiamo soul speed Quindi tecnicamente qua Siamo super veloci Che belle ragazzi Le particelle Guardate le particelle di anime azzurre Ragazzi Guardate che belle che sono Sono una figata atomica Allora Secondo me qua Noi possiamo toglierci direttamente Nell'elitra E farci colpire anche dagli schede Perché tanto fanno una brutta fine Anzi Già che ci siamo Testiamo la nostra ascia Quella diamante nederosa Per favore Vedere quante potere Cosa? Non l'ho sciottato con Un colpo? Sembrava molto molto strana Questa roba Anzi Mi rende quasi inutile Questa ascia Comunque in questa zona qui Dovrebbero spawnare Tanti piccoli allei Molto 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 carini Che però per ora non vedo Scusa ci vorrà un pochino Però facciamo fuori questi bellissimi Testiamo le nostre armi Quanto sono potenti le nostre armi Ho il bisogno fisico Di riprovare questa ascia Vieni qua campioncino No ma lui prende danno dal Torns Però mi aspettavo che l'ascia Togliesse molto di più Quello è un allei Anche quello Anche quello Oh Belli Che bellini Oh mio dio Oh mio dio Ditemi che posso catturarne uno Ti posso catturare No ragazzi No ragazzi Ho appena catturato il mio primo allei Su Minecraft È bellissimo Allora togliamo un attimo la corda Poi ce lo portiamo dietro lo giuro Però voglio testare appunto Il suo utilizzo Se io tecnicamente droppasse in giro Tutte quante queste carote E poi gliene do una Lui tecnicamente ora dovrebbe raccogliere Tutte quante le varie carotine Che ci sono in giro Campioncino Dovresti fare questa cosa qua Bellissima Proviamo a darle anche agli altri a lei Oh sì Stiamo vedendo la raccolta Che bello No ragazzi Ma è magico Cioè è un mob stratosferico E tu sei Ma tu sei bellissimo E ora quindi Se io venissi a te Facessi così Tu me ne ridroppi No ragazzi No Tu vieni a casa con me Ciao Ragazzi Andiamo Assolutamente Ragazzi dovete dare un nome Al mio nuovo amico A lei E dovete dirmelo Questi nei commenti Che metterò un bel cuoricino A tutti quanti voi Che lo farete Ma tu sei veramente speciale Allora Dobbiamo portarla a casa Ma dove lo lasceremo a casa Ragazzi Non lo so Soprattutto portarla a casa Sarà un disastro Sarà molto lunga E tempestosa Ma posso volare con No Mamma ragazzi Stavo per fare No Sono ciclato Sono troppo stupido Devo andare a riprendere Gli a lei Ero senza Elytra Sì grazie Gast Il mio merito Me la sono meritata C'è ragione Me la sono meritata Vado a raccogliere Il mio a lei sopra Ragazzi Torno subito Verso il portale Vi risparmio il parto Che ci ho messo Per portare questo coso Qua direttamente a casa Adesso con moltissima calma Tu vieni con me Giovane campione Andiamo Andiamo Tanto non ci sarà nessun creeper Tra me e te Sento solo zombie da qualche parte Ma non mi interessa Allora Cerchiamo di vedere se ci segue Se ci sta seguendo Ragazzi Molto molto bene Dovrò anche recuperare Una name tag da qualche parte Per il nostro campioncino Qua dietro Che bello Che mamma mia Mi sono innamorato Credo che sia più bello Dell'Axolot ragazzi Guardate come ti guarda poi C'è proprio bello C'è l'Axolot Alcune volte Manco ti calcola ragazzi Se non lo dai da mangiare Non ho nulla Lui proprio Viene lì Ti scruta Ti osserva Proprio come se ti chiedesse Dammi degli oggetti Che ti li vado a cercare No ragazzi Sono follemente innamorato Di questo campioncino supremo Allora Dovremmo dare il nome Però Quindi dovrò aspettare Dovrò caricare sempre Il suo chunk Se non mi despawna Però ti attacco A questa fence No ragazzi Ah che bello È bellissimo Non so neanche come chiamarlo Perché Non ho creatività nei nomi Devo dire Devo essere onesto con voi Lui è proprio bello Wow Sono felicissimo ragazzi Che sia stata questa cosa qui Nella Big Vanilla Che siano arrivati i mob Quelli votanti Del Minecon Molto 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 bello Ragazzi Spero che questo video qua Della Big Vanilla A voi sia piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace Un commento A scrivermi a casa che ho fatto A scegliere uno Dei video qua davanti E a consigliarmi Nei commenti Un nome per il nostro Nuovo amichetto campioncino Da Marche è tutto ragazzi Ciao ciao Scegliete uno Dei video qua davanti